Buongiorno a tutti, allora cominciamo i video giornalieri con le schedine e bollettine del Gigione per quanto riguarda l'esito delle partite del campionato inglese e francese per vedere come sono andate. Partiamo da quello inglese che direi che inizialmente ero abbastanza tra virgolette soddisfatto perché nella schedina specifica delle nove partite, perché avevo saltato Liverpool-Norwich perché l'ho fatta venerdì, non avrei fatto in tempo a caricare il video prima che finisse la partita del Liverpool appunto, allora ho fatto le altre nove che si giocavano da sabato e domenica. Allora la schedina è andata abbastanza bene, ne ho azzeccate 8 su 9, l'unica che ahimè ho sbagliato ed era inaspettata, era appunto la sconfitta casalinga del Watford contro il Brighton netta 3 a 0, io francamente mi ero segnato un 1x invece, e il resto le avevo azzeccate tutte. La schedina alternativa, quella con gli over, i gole eccetera, ne avevo azzeccate 5 su 9, quindi eravamo comunque sopra il 50%. Poi sono andato a vedere le bollettine, ahimè, Leicester Wolverhampton che mi finisce 0 a 0 e soprattutto Watford Brighton che vede la vittoria 3 a 0 del Brighton mi ha fatto saltare praticamente tutto. Quindi se sono soddisfatto per le schedine sono insoddisfatto per le bollettine. Veniamo al campionato francese, anche in questo caso pronostici uguali, 8 su 9, ho sbagliato solo il Marsiglia che anche qui la sconfitta casalinga del Marsiglia contro lo Stade Reims nessuno se lo sarebbe mai aspettato e è quella che è stata l'unico errore, per il resto le ho prese tutte. Per quanto riguarda invece la schedina alternativa anche in questo caso 5 su 9, siamo sopra il 50% quindi non mi posso lamentare, vado a vedere le bollette e proprio perché avevo inserito Marsiglia Reims mi sono saltate tutte, tutte, meno, meno, meno quella libidile del Golcasa Golospite che pagava anche parecchio perché pagava ben 38 euro e 71 centesimi, quindi almeno una bollettina da quasi 40 euro l'ho portata a casa, senza contare comunque che 8 su 9 delle schedine vuol dire che se qualcuno mi ha preso 3-4 pronostici da lì o magari ha diversificato, ha fatto 4 partite, 4 partite o 5 partite o 3-3-2 eccetera, una la può aver sbagliata ma le altre due o l'altra l'ha presa, quindi è tanta roba, se poi uno magari si è giocato le partite singole ne ha prese 8 su 9, è sempre tanta roba, quindi non mi lamento, non mi lamento né nell'uno né nell'altro perché comunque vedo che ci azzecco anche abbastanza. Come sempre prima di salutarvi faccio vedere la magliettina con l'aeroplanone e ci vediamo ai prossimi video che riguarderanno sicuramente l'Europa League ma la farò con comodo mercoledì perché sono tutte le partite di Europa League e farò i soliti due video separati, non la faccio subito oggi perché voglio essere un attimino o magari la faccio oggi però tenete conto che poi dopo le quote variano di parecchio anche perché facendola due giorni prima che si giochi non si sa mai invece facendola mercoledì della sera magari siamo lì perché se no se ci sono troppe variazioni poi mi dite no ma perché qua perché su perché giù quindi premete domani mercoledì, farò i pronostici per quanto riguarda le partite di Europa League che mancano perché quelle che si giocano oggi e domani le ho già fatte, sono già online, viceversa quelle altre le farò appunto nella giornata di mercoledì così almeno avete tempo per studiarvele perché usciranno poi giovedì mattinata e sono quote abbastanza verosimili, non ci saranno grossissime variazioni spero, spero. Detto questo vi saluto, vi ringrazio e penso adesso a fare un altro video non so su che cosa, ciao!